Un'aggressione violenta e inquietante in pieno centro a Ferrara solo perché portava un berretto con i colori della Roma, una rissa su appuntamento tra una settantina di persone in autogrill e tubi di ferro nascosti in un minivan in una delle ultime trasferte della SPAL, senza dimenticare la guerriglia urbana ad Auronzo di Cadore a luglio in occasione dell'amichevole SPAL Lazio. Questo è il bilancio degli episodi gravi da luglio ad oggi che hanno visto protagoniste persone violente che seguono il calcio e la squadra bianco-azzurra. Fortunatamente si tratta di una piccolissima parte della tifoseria che l'anno scorso è stata tra le più corrette d'Italia. A dirlo il questore di Ferrara Giancarlo Pallini che insieme alla Digos e al suo dirigente Alberto Bonerretti hanno fatto il punto sulle indagini sugli ultimi episodi di tifo violento che nella città estensa e soprattutto in questa stagione calcistica l'estate scorsa rischia di diventare un fenomeno preoccupante. Con molto impegno e risolutezza convinti che la stragrande maggioranza dei tifosi spallini che assistono agli incontri di calcio in maniera splendida e vivono un ottimo rapporto con la città non possono essere macchiati da questi piccoli gruppi isolati tante volte che vogliono innalzare un livello di tensione che potrebbe comportare poi a livello generale delle conseguenze molto gravi. La Digos lavora costantemente a questo fenomeno per prevenire ogni azione delittuosa e purtroppo quando avvengono mettere in moto tutti i meccanismi per isolare i violenti. Tu con questi colori non giri a Ferrara. Questo avrebbero detto i due ultras della SPAL tra i 20 e i 30 anni il primo dicembre scorso a un ragazzo con il berretto della Roma in via Contrari poco prima del luna di notte. I due dopo avergli preso l'indumento giallorosso con la forza avrebbero sferrato anche due pugni alla vittima rompendogli il setto nasale guarito dopo ben un mese. L'aggressione poi è continuata in un parcheggio e ora i due sono denunciati per rapina gravata e lesioni personali e hanno l'obbligo di firma in questura. Probabilmente si tratta delle stesse persone protagoniste di un altro episodio violento risalente alla stagione scorsa in via Garibaldi ai danni di tifosi milanisti. Per loro è scattato il divieto di accedere alle manifestazioni sportive di 5 e 1 anno. 7 invece i d'aspo e 11 in via giudizio per rissa gravata nei confronti dei tifosi della SPAL che la notte del 12 agosto dell'anno scorso di ritorno dalla trasferta di Coppa Italia alla Spezia si sono dati appuntamento con gli ultras del Padova in autogrilla Bentivoglio nel Bolognese. Dalle minacce si è passati subito le mani fino al lancio di fumogeni in prossimità del distributore di benzina che poteva causare problemi ben più gravi. Bottiglie frantumate, pezzi di cinghie e sangue e quanto trovato il giorno dopo la rissa nella stazione di servizio. Infine un altro grave episodio ma più recente il 27 gennaio scorso quando in un minivan di tifosi della SPAL diretto a Parma per seguire la trasferta di Biancozzurri la polizia di Stato ha trovato 52 tubi di ferro e uno sfollagente. La Digos della città ducale sta indagando secondo gli inquirenti in questi episodi sarebbero coinvolti soprattutto gli ultras pallini giovanissimi che utilizzerebbero la violenza per alzare il livello e non sentirsi secondi a tifoserie storiche della Serie A.